Fondato in Russia nel 2013, il gruppo Wagner è in linea teorica una compagnia militare privata. Più dell'80% dei suoi membri è costituito da ex detenuti, gli esperti delle Nazioni Unite hanno denunciato pressione in debite da parte dei reclutatori. I soldati del gruppo Wagner sono presenti in numerose nazioni nelle quali la Russia ha importanti interessi. Gli Stati Uniti ritengono che ci siano 50.000 membri del gruppo Wagner in Ucraina. Dietro il gruppo c'è Yevgeny Prigozin, un oligarca di San Pietroburgo con una storia inusuale. Negli anni 80 era in prigione e negli anni 90 era responsabile del servizio di catering del cremelino. Oggi il cuoco di Putin possiede aziende nei settori audiovisivo, minerario, di consulenza e militare. La sua è stata un'ascesa fulminia. Ma non tutto è facile per Prigozin. L'oligarca ha dei rivali tra gli altri ufficiali militari russi come Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate russe e figura centrale nella guerra in Ucraina. I soldati della Wagner sono stati accusati di crimini di guerra come stupri e torture nelle zone in cui sono stati impiegati. Benché Putin non stia appoggiando ufficialmente il gruppo Wagner, la Duma ha recentemente approvato un disegno di legge che consente di punire pesantemente chiunque screditi i gruppi di volontari che combattono in Ucraina.